gioca al gioco degli scp dicevano sarà divertente dicevano adesso io l'ho iniziato voi volete vedere come va a finire mi sono appena spaventato solo perché ha battuto le palpebre e io devo andare avanti e ho paura benissimo fantastico allora eravamo rimasti qui e io mi ricordo che l'ultima volta qui siamo dentro una cella di contenimento di non so chi ok qua fuori c'è il nostro amico il piccolo statuino la delle meraviglie che adesso dovrebbe essere rinchiuso là dentro credo però il problema è che io lì che devo andare la peppina dov'è poi mi hanno detto nei commenti mi avete detto che lui si nasconde proprio lo fa apposta a nascondersi dietro le porte dietro gli angoli capite quindi è uno zozzo ma una quantità di zozzura incredibile ok però non è più qui guarda caso allora so cosa dobbiamo fare ho un piano rispetto alla volta scorsa che ero tutto lì buttato ignorante no questa volta so più o meno alcune cose che dobbiamo fare con queste palpebre però eh porca miseria tienili aperti quegli occhi allora dobbiamo trovare l'SCP 914 se non ricordo male che è che è mamma mia che è la macchina quella che trasforma gli oggetti praticamente questo SCP serve proprio per trasformare gli oggetti nella loro versione più potenziata ciò vuol dire che noi possiamo portarci salviamo eh perché secondo me sta per andare malissimo possiamo portare la nostra keycard da lui e lui c'è la potenzia e ce la fa diventare quella azzurra che abbiamo nei video di minecraft che può aprire tutte le porte ok a noi quella serve quella lì qui però moriamo e io però vorrei andare lì ma lì non possiamo andare perché se noi percorriamo quella sta quella quella strada lì vediamo folgorati proprio istantaneamente da quel raggio della morte elettrico che conosciamo cos'è cos'è sta dun 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 ho sentito un rumore brutto una keycard richiesta io ce l'ho ce l'ho ce l'ho quella di livello 2 che non è neanche male eh eh ma qui ecco come era uscito l'avete visto noi qui eravamo prima ricordate che l'abbiamo visto uscire e abbiamo detto eh ma ha rotto il vetro e si che ha rotto il vetro zozzo da niente chiudiamoci dentro eh che lui tecnicamente qui non c'è cioè non mi pare almeno no sbaglio sto avendo piuttosto paura ma lui qui non c'è però c'è ah potrebbe essere andato nel condotto dell'aria perché vedete che lì è sfondato sì ah 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 cosa è stato cosa era era la mia spalla io mi son girato ho visto una cosa andiamo via da qui mi sembra una buona idea no vabbè però però non si può vivere così cioè è terribile questa cosa ma noi tutti insieme ce la possiamo fare ricordate quando facevamo five nights and freddy ultimate custom night che faceva paura ed eravamo tutti insieme nella nonna sempre tutti insieme riuscivamo sempre eh è così che deve essere sempre anche ora allora manteniamo la calma eh dunque a noi cosa serve dobbiamo trovare appunto questa stanza che vi ho detto come facciamo a trovarla non lo so cos'altro ci serve mi chiedete dobbiamo trovare anche una stanza tipo generatore ok questa serve la keycard per aprirla porca miseria porca miseria e questa qua non mi non mi questa sembra bloccata quindi neanche con la keycard posso aprirla benissimo benissimo e io che faccio non lo so non ne ho idea di là non posso andare questa pure è bloccata qui c'è qualcosa che non va eh ve lo dico io non è normale tutte le porte chiuse in questa maniera è strano è molto strano qui c'è una telecamera che riprende da quella parte qui c'è e questa è la stanza sua peppina qui qui e qui e qui e moriamo ah cos'era 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 l'ho visto io io ho visto voi avete visto io ho visto c'era qualcosa qui c'era qualcosa ci sono sicuro adesso io eh sono sicuro c'era qualcosa un insetto c'era qualcosa sono certo non lo so cos'era ma c'era qualcosa qui ci sono gli altri che sono stati massacrati prima qui è dove abbiamo iniziato eh ma io non gliela fò io mi sto caccando addosso questa è una puzza strana cosa significherà porca miseria e cos'è quella cosina che ho visto con la coda dell'occhio io sono sicuro che l'ho vista eh allora proviamo allora noi siamo scappati da qui e siamo andati la scorsa volta siamo andati dritti di così ok quindi dobbiamo rintracciare i nostri passi eh ma questa è chiusa ma non era chiusa era chiusa prima cioè porca miseria allora sì allora era chiusa anche prima e noi infatti siamo scesi da qui e questa però è chiusa pure e allora siamo andati di qui stiamo piano piano ritracciando lì indietro i nostri passi ok quindi noi siamo passati da qui qui c'erano due strade una delle due ci portava da questo povero signore che era morto male ok e noi percorriamo questa continuiamo di qua qui siamo entrati e abbiamo visto che c'era eh mamma mia cos'è beh 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 l'ho visto di nuovo l'avete visto? io l'ho visto c'è quel coso io non lo so cos'è eh cosa sono sti rumori qualcosa sta andando malissimo malissimo proprio e se chiudo qui magari qui così eh cosa succede? perché ogni tanto mi gira la telecamera? quando fa quella cosa lì secondo me vuol dire bruttissime cose eh cos'era quel caricamento strano? dove siamo finiti? chiudo la porta alle mie spalle? mi sembra una buona idea chiudiamo la porta alle nostre spalle allora qui surveillance room keycard richiesta abbiamo livello 2 ci basta? livello 3 serve cacchio ok eh cosa c'è qui? un altro scp l'scp 12 oh questo qui è bellissimo questo qui? si ma io mi sto cacando addosso chiudo la porta? chiudo la porta allora questo qui è un foglio ok su cui c'è scritto uno spartito musicale praticamente l'scp racconta che se tu lo vedi vieni colto da un'estrema sensazione di voler continuare a scrivere lo spartito musicale però non riesci a resistere e ti tagli la mano le dita e scrivi col sangue finché non muori quindi noi salviamo qua fuori e lo andiamo a vedere perché come sempre se possiamo però livello 2 magari? no livello 3 o più alto ah dai lo volevo vedere tantissimo questo va bene va bene non vi preoccupate sono sicuro che siamo sulla strada giusta per trovare qualcos'altro allora buono qua c'è l'ascensore ricordiamoci dov'era la stanza che abbiamo appena visto però eh eh cos'è qui? cos'è? chi è? l'ascensore sembra rotto qui invece che cosa c'è? eh ma qui siamo andando tutta da un'altra parte eh qui siamo andando tutta e a noi ci servirebbe eh mi sto spaventando un botto proprio ci serve una keycard di livello superiore oppure trovare la macchina che vi dicevo prima ma che roba è qui? achievement unlocked chi è questo qui? un orsetto? ah lo cos'è? l'avete visto? c'è qualcosa che ci segue c'è qualcosa che ci segue ma chi è? qui non si apre sicuramente keycard di livello 2? nulla non si apre lo stesso sì comunque c'è qualcosa che ci sta seguendo eh c'è qualcosa che ci sta seguendo tantissimo problema di andare di qua? mi sto perdendo e io non vorrei perdermi qua c'è un morto non aveva nulla? questo era uno scienziato probabilmente l'unica cosa positiva è che abbiamo perso qua c'è il gate con l'elettricità e non possiamo passare naturalmente continuo a girarmi la telecamera avete visto quando fa quella cosa? quello non sono io eh quello non sono io io sto avendo paura allora manteniamo la calma però dobbiamo riuscire a tornare indietro all'ascensore era così prima? no l'ascensore sembra essere rotto ci credo qualcuno c'è stramorto lì eh questa parte dell'ascensore invece questo è buono? sì questo è buono ok quindi ora stiamo salendo o scendendo stiamo arrivando a un altro piano probabilmente ora potremmo trovare altri scp ok fatti vedere ha civilemente sbloccato fatti vedere cosa vuol dire fatti vedere? no 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 salviamo? eeeh non è stato un buon momento mi sa cosa c'è lì? una puzza? sta escendo puzza strana da lì e quindi eeeh è il vecchio è il vecchio lo riconoscete? è il vecchio eeeh la peppina è qua è finita eh è finita avete visto come è uscito fuori dalla eeeh va bene ma allora ma che cos'è? aiuto sono tutti qui eeeh mi ha mangiato e sì e come facevo a sopravvivere io qui? era impossibile meno male che avevo salvato eeeh e c'è guarda ci ha presentato pure scp 096 terribile questo qua mamma mia mamma mia è sicuro c'è anche lui qua sono tutti qua c'è una riunione e allora da qui me ne devo andare io cosa rimango a fare? vado via però lo voglio rivedere ah ma c'è un passaggio e allora no 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 mamma mia mamma mia eeeh no 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 ma sono nell'angolo non ci passo è la fine è finita è finita è finita però io lì devo andare e ma quello lì è terribile cos'è successo? sono morto da solo il vecchio sicuramente il vecchio mi ha zaccagnato da dieci non vedo nulla è tutto rotto cos'è successo? cos'è? cos'è? non so se sto morendo penso di sì quasi sicuramente vedo tutto ah no lo so cos'è il vecchio ti porta nella sua dimensione vi ricordate? che nessun minecraft non lo fa ma qui sì cacchio è bruttissimo quindi noi ora siamo tipo qui in questa specie di labirinto no è terribile è terribile e come dobbiamo uscirne? sì ma sta cosa no sta cosa è troppo sparurosa e io non lo so adesso cioè volendo potremmo uscire ho paura che ci uccide cioè non so come va a finire so che non posso correre che ok sono uscito? sono uscito? eh ma non sono dove ero prima però sono tipo in un corridoio strano può essere che può essere che è dopo il mostro l'SCP alligatore che ci stava bloccando prima sai che può essere? eeeh cos'è? peggio di prima io vado comunque no siamo tornati è un'illusione è tutta un'illusione e quindi secondo me siamo spacciati eh secondo me siamo spacciati per forza perché vedi siamo in una specie di stanza tutta rossa cioè non mi pare di vedere neanche un'uscita mamma mia mamma mia porca miseria è spaurosissimo però qui eh cosa faccio? io non lo so perché non c'è un'uscita eh cos'è sta? ho visto una scritta ho visto una scritta io mamma mia perché devo vedere tutte queste cose? non è giusto non mi piace voglio 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 uscire dal sogno del vecchio io carico la partita eh eh kennel è uscito scritto tipo kennel che è un altro è un altro SCP o è sempre il vecchio? dai qualsiasi cosa sia fa la finita subito esci fuori non è divertente lo scherzetto che stai combinando ok? metti fuori il naso kennel kennel non capisco che cacchio c'è scritto perché appare per un attimo oh eh vabbè e adesso? sono sott'acqua ora no vabbè ma basta che che terribile cos'è? cos'è quello? cosa sto vedendo? un occhio? un uccello occhio? no vabbè basta 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 carichiamo partita terribile bruttissimo qua torniamo indietro va bene? o riproviamo? che io vorrei passare però c'è di tutto e di più qui c'è di tutto no da qui neanche ci passo e non eh va bene va bene lì c'è il vecchio di qua dovrebbe mi sa che c'è il il cocodrille eccolo là no vabbè qui non si può fare non si può fare non si può fare non si può fare proprio sono sicuro torniamo indietro e arrivederci cos'è? ma no 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 c'è anche dai mamma mia sì ma allora ma ditelo ditelo che vi siete riuniti tutti chi mi ha toccato? questo è l'old man del cavolo ma c'era anche 096 l'avete visto? l'avete visto? io l'ho visto ci abbiamo old man alle spalle quello ci segue sempre ora dai che panico che panico e come facciamo a seminarlo? è impossibile è completamente eh eh e vabbè e se io vado qui tipo? vado qui ma non ce la faccio perché qua muoio eh beh naturale naturale istantaneo come faccio? cioè è la fine è la fine c'ho quell'altro dietro quest'altro davanti che poi non lo io lo volevo rivedere 096 questo ce l'ho porca miseria io lo odio al vecchio lì non dobbiamo andare perché c'è il coso elettrico chiudere le porte contro il vecchio non serve a niente ok? perché praticamente lui le può superare credo tutte cioè l'unico posto dove possiamo effettivamente rinchiuderlo e la stanza sua guardalo porca miseria lo odio lo odio eh questa è chiusa niente niente andata finita 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 cioè posso evitarlo eh perché quello si può è lento comunque però è inesorabile cioè non so se riesco ad allontanarmi magari più di un bel po' riesco magari a seminarlo e non mi trova più però mi dispiace perché io ero arrivato lì e volevo continuare a esplorare quella zona anche se anche questa non ci siamo mai stati eh questa non ci siamo mai stati e in tutto ciò dove è finito 096 perché io per un attimo l'ho visto qua non possiamo entrare qua neanche tutte livello 3 serve livello 3 o superiore e ce l'abbiamo di nuovo dietro sì ma allora è troppo veloce è troppo veloce non posso chiudere le porte non posso fare nulla qualsiasi cosa cerco di mettere tra me e lui e qui si muore lo stesso niente niente è finita a meno che sta porta non riesca a passarla perché non sta arrivando non sta arrivando vuoi vedere che questa porta riesce a bloccarlo perché sarebbe già dovuto essere qua o forse che mi ha perso di vista ti prego fa che mi abbia perso di vista che è un rompiscatole quel vecchiaccio cioè oltre che ti uccide ti porta anche nella sua dimensione degli orrori proviamo questo non so cos'è raga questo non lo so non lo so cos'è cioè credo che qua ti uccide in qualche maniera lì c'era la lì c'è il fumo mi ricordo lì c'eravamo stati una volta eh ma io ho paura che c'è il vecchio dietro la porta no invece dai ti prego fammi andare avanti fammi andare avanti un po' maledetto puzzolente schifoso qui non troviamo niente vero però possiamo provare qui stiamo passando nei corridoi paralleli che tecnicamente queste stanze le abbiamo già visitate e abbiamo trovato qui le keycard che abbiamo o almeno credo proviamo a superarle tutte magari troviamo qualcosa che non abbiamo preso a me sembra di essere sempre nella stessa stanza però eh non mi sembra è sempre la stessa stanza è di nuovo lì no 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 allora se noi non lo guardiamo com'è che funzionava non lo guardiamo lui non ci può fare niente giusto il problema è che io devo andarmene da qui e come faccio ad andarmene senza guardare dove vado mamma mia mamma mia perché però se non lo guardiamo non succede nulla giusto e in teoria dovremmo anche accorgercene se lui si incavola perché inizia a urlare sì ma io vorrei tanto vedere cosa succede cioè cosa dovrei io sono tentato di provare perché sono curioso lo guardo lo guardo eh mamma mia mamma mia che errore che sbaglio che ho fatto che sbaglio che sbaglio ho fatto uno sbaglio grandissimo posso chiudere chiudo la porta metto strada tra me e lui non mi può prendere giusto chi card serve qui vai perché l'ho fatto ho fatto una scemenza grandissima però credo che non mi possa seguire giusto cioè dalla porta non può passare cos'è stato non può ahhh mamma mia 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 mi segue mi segue mi segue mi segue qua non mi segue più mi ha perso mi ha perso e ma qui c'è il razzo incredibile qui non posso passare vabbè se lo vedo che arriva mi butto sotto sotto le cose elettriche è meglio morire così che con lui ehhh ahhh e ma mi ha ucciso già va bene va bene lo accetto abbiamo ancora tanta strada da fare se vogliamo riuscire a scappare da sto posto mi sa che ancora non siamo proprio all'altezza eh va bene io interrompo che se no ci muoio fatemi sapere se volete vedere come continua come avevo detto il primo episodio dovete volerlo veramente tanto se volete che succeda perché io mi cacco addosso parecchio quindi deve valerne la pena ok per questa volta è tutto lion out è tutto